E' finita come doveva finire. L'ILVA continuerà a produrre, ma dovrà smettere di inquinare. Salvi i posti di lavoro e l'economia non solo di Taranto, stoppa però anche alla devastazione dell'ambiente e della salute dei tarantini. Tutti contenti o quasi dunque dal governatore Anichivendola agli operai, persino agli ambientalisti meno duri e puri. Tutto sommato abbastanza soddisfatti sono anche i vertici del siderurgico più grande d'Europa. E' vero che i RIVA restano ai domiciliari, ma poteva andare peggio e il Presidente Bruno Ferrante ha già annunciato di essere disposto a mettere sul tavolo 90 milioni di euro per il risanamento. Peccato oserei dire che per raggiungere questo risultato sia stato necessario un intervento così forte della magistratura, un lavoro storico come lo ha definito lo stesso Vendola. Peccato che per raggiungerlo però si sia rischiata la guerra civile, che gli stessi magistrati siano stati sottoposti a una pressione enorme. E questo è lo spunto di riflessione più importante che ci arriva da questa storia, perché non si può arrivare di nuovo a questo punto. Non può e non deve arrivare una sentenza a contemperare il legittimo interesse all'occupazione e quello altrettanto legittimo anche forse più importante alla salute. Su questo devono riflettere i politici, gli industriali ma anche i sindacati. Bisogna prevenire perché quando arriva la magistratura spesso i veleni hanno già compiuto il loro tragico cammino. A Brindisi la storia rischia di ripetersi. 15 persone sono indagate per inquinamento ambientale. I terreni vicino alla centrale Enel sarebbero contaminati da polvere di carbone. Il processo inizia a dicembre. Ma di esempi di attacchi al territorio bellissimo della nostra stupenda regione ce ne sono tanti e ve li raccontiamo da anni. E dunque occorre una presa di coscienza collettiva, una crescita culturale inevitabile. In questo senso anche la campagna appena lanciata dal sindaco di Bari Michele Emiliano per tenere pulite le nostre spiagge è significativa. Dobbiamo cominciare dalle piccole cose a modificare il nostro modo di vivere, altrimenti Taranto non avrà insegnato nulla e prima o poi arriverà un altro magistrato a mettere altri sigilli. Ma nel frattempo potrebbero esserci stati altri malati, altri morti.